Bene, allora noi invece dottore parliamo del Long Covid. Allora, Long Covid e Fatigue, quante persone interessa al momento questa stanchezza dopo il Covid? Sì, il Long Covid innanzitutto è un insieme di segni e sintomi che insorgono durante la fase acuta di infezione da Covid-19 e che purtroppo persistono per parecchi mesi dopo l'infezione. La fatigue, ovvero la faticabilità fisica, è il sintomo principale del Long Covid. Noi sappiamo che attualmente nel mondo ci sono circa 65 milioni di persone affette da Long Covid, di queste 17 milioni solo in Europa, ed è un problema attuale in quanto non sono noti i meccanismi che regolano l'insorgenza di questi sintomi. Ecco, però questo nuovo studio di cui lei è coautore, condotto dalla Fondazione Gemelli, individua una delle possibili cause della stanchezza, ovvero un'alterazione del metabolismo dell'arginina. Ci spieghi che cosa significa con parole semplici? Sì, praticamente quello che abbiamo fatto è stato dosare i livelli di arginina in una campione di pazienti affetti da fatiche. Che cos'è l'arginina, mi scusi? L'arginina è un amminoacido che in parte viene prodotto dall'organismo, in parte può essere assunto perché è presente in tutte le proteine ed è coinvolto in quel processo di sintesi dell'ossido nitrico, che è una molecola fondamentale per l'organismo in quanto consente un miglior rapporto di nutrienti e tessuti, in particolare ai muscoli. Quello che succede nei pazienti affetti da fatigue da long covid è che i livelli di arginina sono più bassi rispetto a chi non ha mai contratto il covid-19. Dopodiché abbiamo voluto fornire a un campione di pazienti affetti da fatigue nel long covid un prodotto a base di arginina più vitamina C che di fatto ha un effetto antiossidante e abbiamo notato che dopo 28 giorni chi assumeva questa supplementazione tornava ad avere dei livelli di arginina uguali rispetto a chi non aveva mai contratto il covid-19. Ed erano meno stanchi? Sicuramente, questo già era noto in studi precedenti che abbiamo effettuato. L'arginina è in grado di ridurre drasticamente l'entità della fatigue, della stanchezza cronica nel long covid. E dove la troviamo l'arginina? Nell'alimentazione normale, diciamo, a parte questi integratori ovviamente. Sì, l'arginina, come dicevo, è presente in tutte le proteine, in particolare nella carne, nel pesce, nei legumi e soprattutto nella frutta secca, tipo le noci o le mandorle. Dunque, a parte il fastidio, diciamo così, della stanchezza, questa fatigue può essere sintomo anche di altro o è semplicemente qualcosa del long covid che poi dopo passa col tempo? Sì, il consiglio che noi diamo è, in caso di insorgenza, appunto, di stanchezza dopo il covid-19 di rivolgersi al medico di famiglia oppure a uno specialista il quale può distinguere se dipende appunto dal long covid oppure da altre patologie. Noi sappiamo che la fatigue è un sintomo comune nei pazienti neoplastici ma la stanchezza cronica la vediamo anche in altre condizioni, tipo le malattie autoimmuni, in particolare la fibromialgia o l'anemia cronica. Va bene, quindi bisogna fare comunque degli accertamenti, però se si è avuto il covid, diciamo che nella maggior parte dei casi si tratta appunto di questa fatigue che può essere combattuta. Allora, anche però, io la cosa che tengo a sottolineare, anche questi integratori vanno sempre presi sotto sorveglianza medica, non si fanno le cose fai da te, giusto? Assolutamente, il medico specialista, il medico di famiglia deciderà la quantità di arginina da supplementare assieme appunto alla vitamina C in base all'entità appunto della stanchezza cronica. E oltre a questo, il consiglio che noi diamo è un'alimentazione sana ed equilibrata e in particolare riprendere l'attività fisica, soprattutto quella di tipo aerobico, perché consente di ossigenare i muscoli e quindi a recuperare meglio dal long covid. Certo che se uno è stanco non lo vedo proprio a fare attività aerobica, però piano piano, no mi scusi, insomma, scherziamo un po' su questa cosa perché è un problema che appunto riguarda tantissime persone, quindi effettivamente una buona attività fisica, anche se ci si sente un po' stanchi, fa bene. È fondamentale, in questa fase è fondamentale per recuperare più velocemente. Grazie, grazie dottore. A lei. Grazie, con questo come sempre vi saluto e l'appuntamento è con Medicina 33. Arrivederci. Grazie a tutti.